Bella a tutti ragazzuglia e benvenuti a questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti sui miei miei episodio 68-67, non ricordo di preciso, comunque siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo ormai siamo alle battute finali, diciamo, siamo a metà campionato, no, no, battute finali no siamo a metà campionato di questa prima stagione in championship, siamo a fine gennaio, dobbiamo concludere il mercato non abbiamo fatto nessun acquisto, ma non abbiamo bisogno di acquistare nessuno, raga, ce l'abbiamo tutti dentro la nostra primavera o comunque già in squadra, i nostri campioni che ci porteranno in premier detto questo, prima di partire col video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che sta andando a questa serie vi ricordo di seguirmi sui social e mi trovate sia su Instagram che su Facebook e se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni potrete fare tutto l'ambratan di quello che ho appena detto con i link che trovate in descrizione, detto questo partiamo con il video ok raga, chiudiamo velocemente questo mercato che non dovrebbero arrivarci offerte io non ricordo se abbiamo messo qualcuno sul mercato o no, ma non ricordo niente di particolare non ci sono arrivate offerte per la quale, ecco, l'ultima parola famosa è appena arrivato un messaggio in ufficio neanche il tempo di dire non mi sono arrivate offerte particolari cos'è? interesse per Danzi, ah niente sono i giocatori che mi avete suggerito, che mi ha suggerito French se non sbaglio o Gabri, non mi ricordo di preciso ma per questo FIFA sono inarrivabili diciamo il prossimo FIFA 21 vedremo di comprarli subito se resteranno promettenti come mi è stato detto come diciamo soprattutto offerta per Alvarez Guglielmo Alvarez, prestito per un anno aspettate un attimo, ragioniamolo un attimino Alvarez, se non sbaglio noi però non abbiamo allora, a centrocampo noi che abbiamo? Raid, Amponsa e poi Mariani, ok Alvarez e basta, no, siamo 4 contati a centrocampo non possiamo dare in prestito Alvarez mi dispiace mi dispiace, non possiamo andare, non possiamo scettare il prestito di Alvarez perché il giocatore è troppo importante per noi e il prestito per Esposito no, neanche Esposito quindi rifiutiamo Esposito, rifiuto offerta no e rifiutiamo anche per Alvarez che non vede il campo nemmeno con binocolo ma signori me, ce lo dobbiamo tenere perché è importante per noi per noi è importante per i nostri equilibri, ecco, diciamo, mettiamola così per i nostri equilibri è importante il giovane Alvarez dai così vediamo di concludere questo dai ho fatto l'esempio per McKinley, certo è il nostro portiere, il nostro capitano per 9 addirittura potremmo anche chiedere 13.4 ci si potrebbe rifare il Benfica porca miseria ci si potrebbe rifare un bel po' la squadra, signori miei però l'ho sempre detto il nostro obiettivo di questa stagione è arrivare a ottenere dei risultati ovvero la championship, riuscire ad arrivare in premier, non la championship semplicemente prendendo giocatori dal vivaio o comunque anche rigenerati siamo noi i regen, giusto, i regen allora, il resto è conto, squadra giovanile Nicky, vediamo che ci ha portato Nicky Al Sarani, 75, 94 ti continuiamo a seguire Zio perché non sei male Beranick 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 lo continuiamo a seguire Zebramani, no e sull'80 no Mansur, no rifiutiamolo Al Sharani, no non se ne parla Rostom, no Al Yosef, mi piacerebbe il nome è simpatico no, l'ho ingaggiato, ma porca di una paletta ambriaca andiamo a buttare fuori quello e Al Massari no ma abbiamo ingaggiato uno che non c'entrava niente, raga ma porca miseria poi, vediamo che altro c'è Bel, chi mi ha portato? Bel, Bel dal Messico Jose Miranda, 79, 93 sarà un attaccante questo e lasciamolo ancora lì Campos, Campos no 84 no Granero, 66 no Vera, 66, 90 no Cardenas, 67 mamma mia Cardenas, suo fratello no Cardenas, è tutta la famiglia Cardenas è arrivata E Ortiz, 73 no continuiamo a seguire lui aggiornamento di Morris anche lui che è dal Portogallo ci porta Rios te la puoi riportare indietro Consesau te la puoi portare indietro Parella inguardabile e Rebeiro anche lui inguardabile mamma mia che c'ho feca di giocatori signori miei ultimo giorno di mercato è offerto per il trasferimento per raid 10 e 3 complimenti dal Crystal Palace rifiutiamo però perché il nostro raid non si muove signori miei ok andiamo a buttare fuori quel giovane che ci siamo portati per sbaglio che non non ricordo più nemmeno era l'arabo se non ricordo Yosef Amin dove sta l'arabo dove sta l'intruso porca miseria chi era lui 61 83 oddio anche l'altro non è che è meglio 77 85 77 85 ma buttali via questi 83 overall Rivero è un 79 87 non crescerai mai nella vita Amaral va bene Amaral potremmo stare Marcos può rimanere Villalba può rimanere Olivera può rimanere e Amponsa per ora può rimanere anche lui ok dai è stato buono perché ci è servito abbiamo fatto uno sfoltimento della primavera ok andiamo verso la partita contro il Bristol signori miei premio torneo di che ah perché abbiamo passato il torneo in FA Cup buono 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 ci facciamo ci iniziamo a fare conoscere raga ci iniziamo a fare conoscere dai così partita contro il Bristol allora Claudio Morris Nicolas Ray Dan Ponsa Casa Dei Drollo Salazar Lima e Watanabe si no Watanabe fuori gioca Mitchell infatti mi suonava un attimino strano Watanabe lì e si va bene così raga ce lo portiamo in panchina Esposito Hamilton sono un poco annoiati ma va bene così raga va bene così è uno scontro diretto ci riusciamo a portarci a casa i tre punti che ci servono raga ce la facciamo secondo voi a quanto siamo? 53 leeds noi siamo a 44 siamo a 9 punti col Bristol e scontro diretto loro vengono da una sconfitta contro Sheffield United sabato 4 febbraio 2023 che ci fanno? vinciamo 4 a 1 bellissimo signori miei doppietta di Morris un gol di Nicholson e un gol di Casadei ammonito Mitchell ed è uscito il raid per Esposito bello così bello così tre punti importantissimi signori tre punti o Naga si lamenta va bene Naga la prossima partita la giocherai Naga mio pensavo il tuo posto di squadra non è al rischio pensavo lo facessero entrare durante la partita e invece no andiamo a vedere un attimino gli allenamenti signori allora abbiamo Bru che si deve allenare mi avete suggerito un sacco di nomi anche come esterni destri ora me lo sto ricordando però raga me li conserva eventualmente per la prossima stagione oramai comunque facciamo crescere a Bru Marco Stella attaccante va bene Mariani ok Kuruma e Morris va bene aspettate Morris eleviamo mettiamo Claudio dove sta Claudio dai Claudio mio posizione attacco finalizzazione passaggio corto e tiro dai così vediamo di portare anche Claudio a 76 dovremmo far allenare anche il nostro portiere signori si si anche un po' qui difensori dovremmo un attimino per ora andiamo avanti così per ora andiamo avanti così però dovremmo anche un attimino continuare a allenare gli altri allora il Leeds ce l'abbiamo ancora a 9 punti porca miseria il Leeds è ancora a 9 punti sì però abbiamo accorciato sul Bristol che era solamente 3 punti giochiamo contro il Millwall in casa allora Naga voleva giocare quindi Naga lo dobbiamo fare giocare a posto di Claudio però perché Morrison in 76 non si tocca più Nicolson in 78 come faccio a tenerle in panchina a Nicolson io non tocco nulla raga non tocco nulla bisogna iniziare a tirare il vento al primo mulino qualcuno si lamenterà ma dobbiamo scendere in campo con i migliori se vogliamo cercare di raggiungere un posto nei playoff loro vengono dalla sconfitta contro lo Sheffield United sabato 11 febbraio che c'è famo vinciamo 4 a 1 ma è spettacolo raga foto copia della partita di prima bellissimo gol di Naga Raid Anponsa e Mitchell bella così sono usciti Raid e Nicholson per Esposito e Mariani buono 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 4 a 1 mamma mia che risultato signori siamo tornati col botto questo 2023 inizia col botto signori miei continuiamo gli allenamenti continuiamo gli allenamenti a Bru sale 57 bravissima Bru Marcos prima è salita a 58 ora si sta avvicinando pesantemente al 59 Mariani e Kuruma non ne vogliono sapere niente di salire bravi complimenti e Claudio si allena di marmellata e rimane ancora a 75 va bene bella così bella così spettacolo raga 2 vittorie su 2 dai così siamo ancora a 9 punti allo Svonzi porca miseria 9 punti allo Svonzi le cose non cambiano offerta per la nazionale non ci interessa mi dispiace rifiutiamo il paraguai non addirittura tutte tutte queste offerte c'erano per le nazionali che ne sapevo io va bene così prossima partita contro il derby country signori miei noi continuiamo a essere a 9 punti dallo Svonzi abbiamo riconquistato sul Bristol e sull'off city ma il nostro obiettivo è il sesto posto signori e la stagione ancora però è lunga ancora però è lunga detto questo signori miei vi ringrazio per guardare questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao ciao